Come già annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Vittoria Giovanni Moscata ha presentato stamane a Palazzo Iacono l'applicazione che permetterà ai cittadini di Vittoria Scoglitti a differenziare in modo corretto i rifiuti. Ma è un'applicazione per smartphone, iPad, è un'applicazione molto semplice da seguire. C'è sia la possibilità di fotografare il codice a barre e l'app immediatamente dirà dove differenziare, quindi che tipo di rifiuto è, se è plastica, se è carta, se è umido, se va nell'indifferenziato e inoltre sarà possibile anche fare ricercare il tipo di prodotto, quindi basterà mettere su cerca il nome del prodotto che si cerca di capire come differenziare. L'app spiegherà tutto. Inoltre vi permetterà ogni giorno, ogni sera avrete la comunicazione con un piccolo messaggino che vi ricorderà che tipo di rifiuto domani bisogna mettere fuori nelle strade, bisogna esporre e inoltre è un'app che ti permetterà di segnalare ad esempio delle discariche abusive e quindi avere poi un contatto diretto con l'amministrazione. Quindi è un'app molto semplice, noi l'abbiamo acquistata come comune e sarà data in dotazione a tutti e tra l'altro è anche molto importante perché anche i turisti che verranno qua nel momento in cui saranno nel territorio di Vittoria potranno geolocalizzarsi e quindi scaricarsi l'app e avere le regole della differenziata della città di Vittoria. Questo sarà molto utile per l'estate. Quindi diciamo che quest'app serve per aiutare ancora di più a chi potrebbe andare in difficoltà. Chiaramente cambieremo le abitudini ma questo ci aiuterà tanto perché adesso non ci sono più scusanti. Si sa benissimo con quest'app cosa differenziare e come differenziarlo. Al primo cittadino inoltre è stato chiesto un bilancio di questi primi giorni di raccolta differenziata a Scoglitti. Guardate il risultato su Scoglitti è eccezionale, è al di sopra di ogni aspettativa. Non sono dati ufficiali ma ufficiosi ma siamo probabilmente circa al 50% della differenziata quindi è un risultato incredibile per dieci giorni di differenziata. È chiaro che qualche incivile c'è e quindi ha creato delle mini discariche e noi stiamo pensando a pulire. Abbiamo già giudicato la gara d'appalto per le telecamere Wi-Fi e quindi fra un po' partiremo anche con le telecamere e con i controlli della pulizia municipale che già ci sono. Poi il resto va tutto bene, poi può capitare che qualcuno ancora non ha capito bene come bisogna utilizzare i mastelli ad esempio dell'umido che sono anti-randaggi ma piccolissimi problemi ma devo dire che Scoglitti è bellissima in questi giorni oltre anche il clima ci sta aiutando ma non vedere finalmente il nostro borgo marinaro così bello con le nostre coste meravigliose senza più neanche un bidone della spazzatura credetemi è veramente bellissimo.